Wolves Card Gaming è sponsorizzato da questi fantastici brand. Maggiori informazioni nella Ending Card. 12 maggio 2024, Lotus di Altamura, siamo con Luca Calamita. Ciao Luca, cos'hai fatto oggi? Ho fatto il top 4 a un OTS di un Lulus, quindi un petronella show per chi conosce l'ambiente, e ho giocato voiceless, ma come l'altra volta con Drytron, che secondo me continua a rimanere la versione più forte. Allora, ho fatto 5-1 in Svizzera, perdendo l'ultimo turno contro chi poi ha vinto il torneo, e ho perso il top 4, purtroppo briccando, però sono contento che ragazzi si arrivate in finale, che Gianluca, se voi già inquadramo, vabbè. Comunque, al di là di questo, ho giocato come l'altra volta, ho giocato 3-9, vabbè, chiaramente la partenza più forte dei voiceless, con una Saffira, due School Guardian, ovvero il motivo per cui alla fine si gioca voiceless, un Sauravis, cercavano sempre di combo, quindi non avrebbe senso non giocare, ma poi fortissimo anche contro Tempai, è una carta che unisce chi, cioè non puoi sbagliare con lui a terra, perché tipo Tempai li fa malissimo in varie situazioni. Poi, Barrier, chiaramente unica Barrier, perché la Sarchi della combo che poi ti collega da Drytron e i voiceless, una maggiore rituale, considerato da tutti il brick del mazzo, è il brick del mazzo, però in questa versione comunque può tornare molto utile sempre per il fatto che qui giocavo Ben 10. Carta che ti permette in un qualche modo di unire sempre il Drytron da voiceless, perché Ben 10 cerca l'ho, quindi fortissima come cosa. Un'altra carta sempre di voiceless, nonché l'ultima, è la trappola, chiaramente. Non gioco il nonno, non gioco carte che vanno fuori il pacchetto, quello più piccolo possibile riguardo di voiceless. Per quanto poi si riguarda la parte Drytron, iniziali con la maggiore rituale, che per me è una carta troppo forte. Tre Ben 10, una Natasha, un Araldo, sono troppo forti queste carte qui. Natasha puoi altifogu guadagnare una quantità spropositata di LP, ma è anche una carta che non tutti conoscono, tant'è che ho vinto un Fissure Match mettendo Natasha in difesa, perché tu puoi creare addirittura una Lock, mettendo semplicemente Skull Guardian a terra, Lock che è protetta da Barrier, protetta da Barrier che significa, devi attaccare per forza Skull Guardian. Quando attacchi Skull Guardian, o quando attacchi Natasha, chiunque tu voglia di attaccare, avrai sempre Natasha che ha un effetto segreto a molti, ovvero nego l'attacco. Un effetto che non tutti sanno, però ti permette di vincere quando, boh, meno dell'aspetto e trovi Natasha, non sanno l'effetto e quindi fai funzionare quella cosa lì. Poi, le carte davvero forti. Abbiamo 3 Alpha e 3 Z, questa volta massimizzato anche i Z. Perché, cioè, in realtà, vuoi sempre aggiungere la magia dei Drytron, è troppo forte, poi ci fai le porcate, come ho detto un'altra volta, ci tributi Zeus e Revoti Skull Guardian, è troppo forte questa cosa qui. Poi 2 e 2 degli ultimi dimenticati dei Drytron, tra di lui però lui è un po' dimenticato, ma ti fa pescare fortissimo in questo mazzo, perché gioca un sacco di power card, prese di delta, l'hai vinto sempre. Questa volta ho massimizzato le partenze. Ho massimizzato, quindi, Cyber Emergency. L'altra volta mi giocate una Cyber Emergency e due nuova. Questa volta ho giocato 3 di loro. Ho giocato la terreno che prende sia la rituale dei Drytron che ho perduto, chissà dove è finita. E sia le nuova, che questa volta ho giocato a 3. L'altra volta era 2, questa volta ho messo a 3. Quindi, maxate le partenze, però ho briccato comunque quando devo briccare. Poi, le carte fortissime. 3 talenti. 3 Droplet e la carta meno aspettata da tutti, che è fatta comunque vincere al Fisio. Superboy. Nessuno ce l'aspetta, tutti che ti insultano quando gliela giri, però è troppo buono. Poi, puoi passare all'Extra o la sai? Direi di l'Extra. L'Extra fa fine standard. Fuco, perché tempai ottifo da Santa Claus o niente, però nel mio caso è un altro Rank 2, perché ci devo fare F coso piccolo ed F zero. Fortissimo. È davvero troppo troppo forte. Il motivo per cui inizialmente misi anche i Drytron, ovvero Downer Magician e Zeus. Quindi, in questo mazzo puoi fare Turbo Zeus e poi fare le borchette di Voidless. Quindi, troppo forte. Anima abbandonata. Va bene, reparto Link classico ormai. Quindi, anima, mascherina, SP. Un Dynamondo, perché, sì, alla fine devi avere degli spazi nell'Extra. Una Pollusa e un Borrersword. E i due target di Superboy. Poi, 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 poi... La side. La side, io ritengo ancora essere la cosa più tossica del gioco, ovvero... Modo della segna. Serciago. Vinci contro la Voidless, sempre, perché la Serci non può fare... Cioè, l'unica giocata che ha è fare Magia Rituale e la Neghi e non può fare più niente. Colled, questa volta di side, perché non la voleva di me. Spolverino, regalato da Dio Gabriele Vital. Poi, Dark Ruler. Araldo dell'Abisso e tutti... Cioè, questi tre target entrano tutti i Serciavili di Trust. Carta troppo, troppo forte. Poi, la Win Condition contro Despia. Questa qui. È troppo forte, sia da primo che da secondo. Per quanto a molti possano dire che ti posso girare intorno... Devi aver pescato dieci carte per girare intorno a questa, quindi... E devi aspettarti che sia questa visettata per fare una determinata giocata tale. Quindi, con questa qui ti puoi comunque prendere il Puppet, ma in alcuni casi ti permette anche di poter giocare. Ho tolto, rispetto all'ultima volta, tre Cosmic. Per dare spazio a tre Solenne. Carta fortissima contro Kenpai. Cioè, banalmente, quel Cosmic... Lì, infatti, il proprio problema, chiamiamolo così, è che oggi ci sarebbe stato sia a Svizzera che a Top. Ritengo che il mazzo si faccia o per la Top o per la Svizzera. Io in Svizzera mi sarei aspettato di beccare un X-Tun, ad esempio. Ho mazzi del genere. Ho altri mazzi. Comunque Cosmic mi fa molto male. Però, volevo focalizzarmi questa volta sulla Top. Quindi ho preferito giocare Solenne, che infatti è stata fortissima poi al Fisul contro Kenpai. E normal Temp Solenne. E poi, la carta più forte del gioco, la carta più tossica del gioco. La gioca anche Flandia, addirittura, e quindi Trappolar P. Infatti, Cuco l'ho perso, però ci fai Trappolar P. Trust, Trappolar P, vai, divertiti. È molto tossico da fare, chiedo sempre scusa all'avversario dopo che la fai. Però, perché non giocarla? Yu-Gi-Oh! E nulla queste quattro. Quindi ho fatto 5-0, poi ho perso in finale l'ultima contro la T-Evory. Ho perso contro Boy 64 e finita qui la mia avventura. Vuoi ringraziare qualcuno? Ringrazio chi sta filmando, Donny o Danny. 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 Non sbagliato. Perfetto. Vabbè, la metto già con questa parte qua. E poi ringrazio... Ringrazio Mascolo che mi ha ospitato a dormire a casa sua. Ieri con questa stessa lista ho fatto anche quinto all'OTS di Lecce. Il più basso dei quattro euro. E niente, questo è qua. E i membri del team che sta a perdere. E i membri del team, sì. E sono appena entrato nel team, quindi ho avuto pochi feedback da loro. Quindi, ti ringrazio comunque anche loro. E ringrazio lui per avermi dato uno. E basta, e basta. Sempre io, sì. Ciao, ciao. Ciao, ciao.